A moto mio, puro in Scozia, vi sarete chiesti come facciamo a registrare live i nostri video e lo facciamo grazie a questo nuovo prodotto della Sena, un auricolare, il modello si chiama 10C, che oltre a metterci in comunicazione con i nostri compagni di viaggio, ci permette di commentare e filmare live mentre guidiamo. Inoltre abbiamo in dotazione anche una telecamera, una action camera Prism della Sena, per l'occasione montata su un supporto da selfie, e appunto con questo 10C, volendo la doppia soggettiva, la soggettiva dal casco, quindi in questo caso stiamo filmando il canale che alimenta il famosissimo lago di Loch Ness, oppure utilizzare la action camera per filmare più o meno quello che volete, che vi permette di comunicare con chi viaggia con voi, che sia il vostro zainetto o il vostro compagno di viaggio su un'altra moto e contemporaneamente di filmare la soggettiva dal casco, la strada, e ancora più divertente di poter commentare live o aggiungere live dal vostro telefonino la musica al filmato. Un auricolare di dimensioni, se volete, generose, ma che una volta montato sul casco grossi problemi non ne dà. Nella fattispecie stiamo filmando la soggettiva dal casco appunto col 10C e stiamo filmando noi stessi con una action camera, sempre della Sena Technology, che si chiama Prism. Il canale inquadrato è quello che va ad alimentare il famoso lago di Loch Ness e siamo diretti in direzione Inverness per la costa poi occidentale della Scozia. Particolarità è che la telecamera Sena Prism può essere tranquillamente comandata come se fosse un telecomando dal vostro auricolare per la doppia soggettiva. E mentre stiamo facendo tutto questo, ovviamente siamo anche in comunicazione con i nostri compagni di viaggio. Ciao! Perfetto! A moto mio, provato davvero, provato per voi!